Quelli che sono in aula, dico se... non quelli che... Bene. Altri che non riescano a votare? La votazione è chiusa. Presenti 367, votanti 337, astenuti 30, maggioranza 169, favori 231, contrari 106, la Camera approva. Dichiaro così assorbita la proposta di legge costituzionale 2060. Lo svolgimento di ulteriori punti iscritti all'ordine del giorno è rinviata alla seduta di domani. Colleghi, comunico che è deceduto l'onorevole Stefano Servadei, già membro della Camera dei Deputati nella quarta, quinta, sesta, settima e ottava legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Vi pregherei di un po' di silenzio, ha chiesto di intervenire l'onorevole Pizzolante, ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie per aver ricordato Stefano Servadei, che è stato per tante legislature deputato, è stato questore della Camera, uno dei questori storici della Camera. Stefano Servadei è stato un grande socialista romagnolo, dopo Nenni e Andrea Costa per tantissimi anni è stato uno dei costruttori del Partito Socialista in Romagna, un uomo conosciuto per la sua grande autorevolezza, per il suo coraggio, per la sua onestà, per l'amore per la politica e per il... Colleghi, per favore, stiamo commemorando un collega... ...è per il Partito Socialista. È stato anche un grande combattente per l'autonomia della Romagna, ha fondato infatti il MAR, che è il Movimento per l'Autonomia della Romagna, ed è stato, negli ultimi quindici anni della sua vita, il suo impegno principale. Lo ricordo...